A te non ti prendo Chiara, Chiara, Chiara Chiara, Chiara Signorina, non vogliamo smettere di fare con Briccola, vogliamo iniziare a fare con Briccola Ma io non sapevo che facevo la Ucat ma, oh mio Facci la volta, facci la volta, Anna Mariesce, che faccia? Guarda qua, speggiavato Ma quando è brutto Però ho fatto un video bellissimo di guardare la piscina sulle risate, non mettere tutto eh Ma tu mi blocco psicologicamente? No, no, io non mi blocco Con l'esperienza che ho, non mi blocco Vieni, vieni, vieni Fai un video? Si Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Che cammino Aiuto Madonna mia Lucia, vieni là E c'ho tutto di là, la fotocamera No, ci penso io, vieni qua, pure senza fotografia Eh, la porta Me l'avamo regalato, si è rifà Un piatto, un piatto, un piatto Un piatto, un piatto Ciao Ehi, ciao Ma che, a ciappa, a ciappa roberta Mamma mia No, è che Così qua c'è già mancato io, mochiamo Speriamo più tardi possibile E basta Speriamo più tardi Speriamo più tardi Posso buttare una pennellata? Speriamo più tardi Un sorriso a denti aperti No, a bocca aperta Esco un asco No, lascia aperti, si E qua ti ti saltaranno A mezzanora Madonna mia Mi sento? Mi sento... Mi sento... Mi sento? Mi sento... Mi sento... Mi sento... E io... Chi è che ti faccia le carte? Cosa è una cosa seria? Signora... Signora Lucia... Mi sono... Oh... Un dolore... Io non ho preso... Lucia, facciamo una foto indietro Ricordo Scusi no, scusi no, io non ce l'ho fotogenica. Scusi no, due, 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 due. faccio con due macchinette fotografi questo è video ah! video! pensavo che facciamo la macchinetta e facciamo la macchinetta che ha detto? che fa? si chiocca? no, ti prego fammene fare le foto perchè devo usare qua hai fatto lavori a stu cacacazzo? no, a mezzanotte a mezzanotte a mezzanotte siamo due generazioni e mezza aspetta, faccio in dentro faccio in dentro faccio in dentro tempi veloci tempi veloci a mezzanotte a mezzanotte non mi fai capire da mezzanotte ahhh a mezzanotte a mezzanotte a mezzanotte a mezzanotte a mezzanotte la signora no, vabbè stai ti ricordi? te li ricordi? questa la macchinetta è rimbosta ma che fai ora? la macchinetta Lucia ma di fatto sta fu... ma gioa facciamo fare le fotografie carichi con un flash carichi con un flash e tu flash eeeh carichi con un flash no, si è perso ci è poi che nizia prima che hai fatto il 18 anno ho il 36 ma non ho mai ma che fai? ma che fai? ma come questo arriva il 36 io arrivo il 5 eeeh poi c'è la paura è una flash ma devi fare tutto il flash ma ti metti tutti i messi come vuoi? uuuuuh 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 fucia fucia Aspetta, ma c'è troppa gente che mi conosce. E tu cosa vuoi passare il nostro cervello? Aspetta. No! No! E nel mentre passa lui! Prima la vedono queste volte che hanno più fotografato. La stia alzando, non la dico prima, non la porto là tu e tu. Ma che stai facendo? Allora lui sta facendo una mostra. C'è una strattatorica che è salvo in casa. E... Aspetta! E qua nel faccettare una che si ferma! E lui dipinge dal vivo e poi si fa il dipinto che è in estrazione. Quindi è una... Tutti i fatti, vivo! Registra tutto! A fine serata diciamo... No, ma noi ci dobbiamo un'occhiata. No, è bella. La strattatorica non ci ride più. Quando capita? Aspetta voi! No, noi eravamo in altri posti. Quando ho salutato sabato... Domenica! Eravamo andata da rodi. Sì! Quella che stava in bicicletta... Domenica!